In collaborazione con Glamvision e Ottima Trento. Il punto di riferimento per l'ex area tirolese di Fodom. Comunali. Giulia Rovol è la prima donna sindaca di Rovereto. Il centrosidistra vince nella città della Quercia al balottaggio. Sconfitto Giampiero Lui del centrodestra. Caldes. Orso fuori dal seggio elettorale durante lo scrutinio. I carabinieri escono e se lo trovano davanti. Il sindaco. Situazione non tollerabile. Si intervenga con una linea dura. L'altra montagna. Non solo europee. La Svizzera vota il referendum sull'approvvigionamento energetico. Solare, eolico e idroelettrico. Le energie del futuro elvetico. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero Glam. Con Glamvision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista. E poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su Glamvision.it Se sancurare i tuoi nuovi occhiali che possono creare per te. Grazie a tutti.